Napoletana contemporanea, preferimento calibrato che non devi neanche guardare. Inserisci gli ingredienti, imposti il timer ed è pronto. Temperature dello stesso facilmente gestibili a temperatura controllata. Nero in fresco, metti tutto in macchina, tranne la seconda parte di acqua e sale. Arrivi al 75% di acqua finale senza troppa fatica, anche senza usare farine per cementare le mura di casa. Arriviamo alla gestione post-impasto con due scelte, tutto a pretto o con la massa. In entrambi i casi a temperatura standardizzata. Semplificare, ridurre e focalizzarsi su punti chiavi delle varie fasi. Che sia diretto o indiretto, poco cambia. Questa è l'attitudine.